La Biennale d'Arte Contemporanea del Belvedere di San Leocio è stata valuta, come sapete, dall'associazione Web Club in collaborazione non solo con il comune di Caserta ma anche di Casagiove. Noi siamo con il sindaco di Casagiove, Roberto Corzale. Una bella iniziativa che vede coinvolto il quartiere militare borbonico. Sì, il quartiere militare borbonico che è nuovamente al centro della scena artistico-culturale. Nel mese di ottobre ospiteremo insieme a Caserta questo straordinario evento e noi ce la stiamo mettendo tutta per valorizzare la nostra città e il nostro territorio. Ecco, sindaco, non davvero dobbiamo dire che comunque lei ha aperto all'arte perché ricordo benissimo l'anno scorso durante Arte Estate la bella mostra degli amici della Cracking Art. Assolutamente sì, è stata un'esperienza fantastica. Cerchiamo di portare nel nostro territorio quanta più arte, quanta più cultura, anche rendendola internazionale. Il lavoro da fare è duro ma passettino alla volta cercheremo di essere alla ribalta della scena internazionale.